si alza l'asticella giorno dopo giorno settimana dopo settimana oggi posso fermamente dire che per alcune squadre di serie a il calciomercato sta entrando nel vivo perché è arrivato il momento di chiudere determinate operazioni che porteranno i loro club a stravolgersi in vista della prossima stagione sapete bene o male di chi ho parlato preparatevi perché sto per sparare delle situazioni veramente da mettersi le mani ai capelli perché ancora ce l'ha io per fortuna ancora ce l'ho come dico sempre io tra qualche anno non so come se faccio il bombe carciomercato da pelato soprattutto sarò ma continua bentornati e ben ritrovati lasciate like se anche domenica volete un nuovo episodio di bombe di calciomercato l'episodio domenicale del caso dipende tutto da voi visto che avete aperto questo contenuto che vi interessa quello che sto per dirvi nel frattempo mentre ascoltate ragazzi lasciate like per assicurarvi un nuovo episodio seguitemi attivate le notifiche cliccando sulla campanella è l'unico modo che avete per restare sempre aggiornati sul mio canale youtube siccome il canale di calcio non mi bastava non ho fatto un altro c'erano due e siccome scusatemi due canali di calcio non mi bastavano ho fatto pure il terzo canale extra calcio a chi fosse interessato tutto in descrizione come sempre compariranno qui durante il video se sta pure quasi a scaricare la penna quasi finita tra l'altro le devo ricomprare 80 euro a penna ma indovina indovina cosa c'è nel mio cappello lo avete indovinato tutti quanti ovviamente ragazzi è stata una cosa bella anche rimbalzata sui social in tanti sono rimasti a bocca aperta da quello che sta succedendo al barcellona perché appunto no vogliono a tutti i costi nico williams a tal punto che i tifosi si sono resi conto che può essere difficile dal punto di vista della fattibilità economica il barcellona non se la sta passando bene economicamente su tiktok ragazzi stanno arrivando affolate donazioni come se non ci fosse un domani tutto col commento comprate nico williams comprate nico williams a voi ammette da parte 60 milioni d'euro della clausola rescissoria è vero che il barcellona c'ha un sacco dei supporters però guarda amore fanno 100 comprese comprano pure ok perfetto nico comunque regà è assurdo come alla fine io sono convinto di questa cosa no veramente situazione economica brutta da parte del barcellona no ma nonostante tutto io sono convinto che il cash per pagare nico williams la clausola dei 60 milioni ragazzi sicuramente la troveranno li troveranno sono convinto di quello che vediamo nuovo indovina indovinello cosa c'è nel mio cappello questa è molto molto carina come questo è molto carino come indovinello perché era questo ragazzo difensore giovane e di grande prospettiva era destinato a real madrid ragazzi erano mesi ma io ero convinto convinto che sarebbe andato a real madrid che cosa è successo nel frattempo che real madrid non ha affrontato non ha affondato definitivamente il colpo forse lo avrebbe affondato a breve però lui si era rotto il cazzo di aspettare di aspettarli è stato ammaliato da un progetto di un club grandissimo ragazzi di premier league non ve dico qual è perché se no lo indovinate è facilmente vi do un indizio ancora più un club che si deve però rilanciare perché ad oggi è stato il top dei top per anni è stato in italia in premier league e in europa e praticamente ho detto e quindi ha accettato quella destinazione interessante quello che sta facendo questa squadra per la prossima stagione 50 milioni di euro più bonus ma in realtà ragazzi mi pare che sono 60 in totale se parlavate almeno 100 milioni di euro per lui quindi di chi stiamo parlando uno dei prospetti difensori più importanti per il futuro scrivetelo qua sotto nei commenti lascio cuore a chi indovinerà mica utazze ex mezzo se non mi ricordo male perché mo ok georgia cose europei le nonne le zie shonate non ho ancora preso le mie vitamine è diventato un nuovo calciatore dell'ione quindi questo ragazzo comunque è molto interessante a me ha sempre stuzzicato l'appetito e la fantasia giusto per riprendere uno spot pubblicitario tempo di tempo fa il torino che cercava un vice milinkovic savage così debotto senza senso se piglia dal benevento non debotto senza senso no perché è forte è un bravissimo portiere debotto senza senso nel senso che piglia cotta magnata è uscita praticamente l'ufficialità nessuno era riuscito a far trapelare questa indiscrezione del calciomercato in quel senso perché ribadisco che paleari lo seguo da una vita è un calciatore è un portiere veramente molto molto forte e so sicuro che ragazzi se giocherà anche il posto da titolare con bangia milinkovic savage non è così scontato che il titolare dell'anno prossimo sarà milinkovic savage quindi complimenti a paleari in bocca al lupo te mando un grosso abbraccio detto questo lato empoli perché mi chiedete sempre anche indiscrezioni notizie di calciomercato sulle squadre medie quindi qualcosina sono riuscito a trovare questa settimana questa settimana quest'oggi l'empoli è pronto a chiudere per innanzitutto colombo col milan se dice che sia ormai pure semplice formalità ne parlava ieri sky sport all'incirca no più del 12 ore fa no meno del 12 ore fa perché io sto registrato un orario è improponibile voi lo vedrete all'incirca verso le 11 penso sto sto contenuto quindi colombo è praticamente quasi fatta chiusa e definita ma anche viti del nizza viti che se non sbaglio è quello che ha giocato al alzassumo buona è di una cazzata ma viti noi viti quelle viti sassuolo mattia viti dovrebbe essere lui dovrebbe essere lo stesso calciatore nizza nazionale under 21 e via dicendo quindi c'ha pure esperienza dice sì ci so retro c'è sì esperienza in merito ho cancellato una cosa che non mi ricordavo il nome del calciatore vabbè mo ci arriviamo con calma allora questa pure è interessante e riguarda no del torino non ve ne dico un'altra perché ve l'ho appena detta una questa è interessante perché riguarda bregalo riguarda attualmente un calciatore della fiorentina che non è così imprescindibile non è un calciatore che dici l'anno scorso ha ha fatto la differenza in una maniera assurda tant'è che starebbero pensando di cederlo la concorrenza questo calciatore ovviamente non manca e non manca in serie a in realtà è seppur poi andiamo a guardare anche all'estero qualcuno interessato è comunque calciatore della dimensione importante un po di tempo fa ragazzi aveva alzato la stigene in una maniera clamorosa stiamo parlando ribadisco detto di bregalo sì l'interesse forte e deciso è di parma monza e genoa attenti perché si potrebbe rilanciare in una di queste tre realtà monza e genoa due realtà simili in realtà ad oggi guardando quello che sono riuscito a fare in serie a da quando ci sono tornate parma che mira in realtà a fare quello che hanno già fatto monza e genoa quindi bregalo comunque potrebbe restare in serie a e rialzare il livello delle sue prestazioni ma l'instrom gabbo ma l'instrom che cosa fa il napoli che cosa ha deciso c'è l'accordo con l'everton non è imprescindibile per per conte da quello che ho capito seppur abbiamo visto come stava cercando di rilanciarlo anche nelle nella precedente amichevole del napoli no oggi ce ne sarà un'altra appunto proprio del napoli poi giocherà anche il milan alle 17 e 30 sono molto curioso di rilanciarlo all'opera ma che palle sei cazzo le zanzare ragazzi non ce la faccio più mamma mia ormai c'è devi convivere non ce ne puoi fare nient'altro quindi si avvicina la cessione di linstrom trovato l'accordo economico tra il calciatore e l'everton sembra sia stato trovato anche l'accordo economico definitivo tra everton e napoli e quindi cessione è abbastanza importante dal punto di vista economico è che potrebbe poi permettere al napoli di potrebbe permetterà al napoli perché il napoli è una delle poche società che il soldino da spendere ce l'ha di sostituire a dovere un calciatore che non soddisfa pieno e ok detto questo qualora dovesse partire reteghi ad oggi non ci è dato sapere verso quale destinazione anche se se siete attenti se avete seguito tutti gli episodi di bombe di calcio mercato del gabon io ve ne ho parlato c'è una grossa possibilità di trasferimento per reteghi ad una squadra molto importante di calcio italiano ovviamente e non solo perché in realtà ci stanno anche altre due tre proposte ad oggi diciamo che ancora una situazione nebulosa però ovviamente il genoa dice io devo pensare anche all'ipotetico futuro cioè ci sono indiscrezioni se questo decide di andare via non tratteniamo giocatori che non vogliono restare partono per la giusta cifra io lo devo sostituire i tifosi del genoa quando avrete sentito uno di questi due non mi sicuramente mi sarete messi le mani ai capelli perché per sostituirlo si parla o di Krustovic buon giocatore oppure Nzolà Nzolà che con Spezia ha fatto un'annata di quelle clamorose si è fermato là praticamente poi no mamma mia ragazzi voi dice uno che ce l'aveva al fantacarcia può essere pure che arriva al genoa fa ventico ma non ci credo manco sovito Ghirassi dallo Stoccarda è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Borussia Dortmund ho tutte le mani sozze e schifezze non so che cosa cazzo sia quindi niente Milan vabbè che tanto sappiamo tutti la situazione Milan hanno già sono già intervenuti sul sul mercato ma Ghirassi interessava anche a qualche altro club di serie A allora queste due che vi sto dicendo sono molto molto pesanti una riguarda Rabiot riguarda Rabiot dal punto di vista di quella che potrebbe essere la sua squadra del futuro io qualche giorno fa vi ho detto la Juventus non rinnoverà e così è stato alla fine non ha rinnovato c'è la possibilità Milan ma chiede veramente troppi soldi c'è la possibilità Real Madrid e lì i soldi non sarebbero un problema lì il problema sarebbe se lui no sarebbe titolare e va bene Galatasaray scusate ci ho avuto un attimo di vuoto ipotesi Galatasaray non è convinto appieno del progetto ci sono anche altre tre o quattro ipotesi vi ho detto io soprattutto in Premier League eccolo sembra che il Liverpool si sia appena mosso non è una situazione ufficiale sembra essere una situazione ufficiosa ma ovviamente non devi trattare con la Juventus il calciatore è free agent è libero devi trattare con lui sull'ipotetico contratto visto che con la Ju ha rifiutato 7,5 più bonus da quello che ho capito si arrivava a 8 difficilmente raggiungibili per due stagioni più opzioni per il terzo la madre procuratore agente del calciatore vuole almeno 10 più bonus mai dire mai nel senso che in Premier League probabilmente sono cifre anche no probabilmente sono cifre che possono permettersi di elargirgli di dargli quindi attenzione perché per il Liverpool del futuro della prossima stagione ve lo ricordo con Arne Slott sulla panchina non ci sta più Klopp quindi vediamo quello che potrebbe succedere attenzione perché ci sono anche altri due tre club non di Premier League che potrebbero affrontare il colpo nelle ultime ore perché c'è da di pure questo per stare di salire il polpettone Kante potrebbe tornare in Europa fermi però so quello che state pensando ci sta pensando il West Ham non solo le prestazioni dell'europeo parlano da sì ragazzi uno che i club europei che vedono prestazioni del genere dopo che il calciatore ha deciso di andare a svernare perché probabilmente si sentiva più un calciatore ad alto livello e ti dimostra non solo di essere ad altissimo livello ma di essere a livello più alto le gente che è rimasta in Europa a giocare a pallone è ovvio che in tanti lo vogliono una marea di squadra stanno a prova a chiedere informazioni alla Litiad il West Ham su tutte la Litiad ha frenato ha detto grazie al cazzo Kante in parte non so se stanno a spiegare Kante è nostro poi la volontà del calciatore e le vie del calciopercato sono infinite e lo sapete io però ve l'ho detta ve l'ho buttata là poi fate voi allora sul Bologna me devo levar questa perché ce l'ho qua veramente da 875 anni Diomandè non mi ricordo se ve l'ho detto con Fabio forse ve l'avevo accennato ma Diomandè sta diventando più che un'opportunità sta diventando forse anche un chiodo fisso il difensore centrale dell'Ione classe 2001 potrebbe arrivare al Bologna per rinforzare il reparto difensivo poi ve l'ho detta adesso prendetela comunque come un'indiscrezione del calciomercato io ve lo specifico quando hanno parlato Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio e hanno detto è tutto fatto definito chiuso no? in questo caso non è così però so tante le testate giornalistiche sportive che inseriscono il dito nella piaga e dicono che è una situazione abbastanza avanzata poi sappiamo che il Bologna dal punto di vista dei difensori ragazzi sta sondando il terreno veramente dappertutto tra calciatori importanti di esperienza a Giovanni e di prospettiva allora Fiorentina questo lo dobbiamo dire perché in realtà è un ribadire un concetto però se ne esce Sky Sport e dice in settimana inizio prossima settimana ci saranno dei dei colloqui importanti tra Colpani e Fiorentina Colpani la gente e il Monza non è facile far quadrare la cerchia il cerchio non so se ho tutte le mani ma che cazzo dove cazzo ho messo le mani voglio sapere io non lo so vabbè non è facile far quadrare il cerchio della situazione però è l'obiettivo numero uno della Fiorentina per la prossima stagione è un calciatore che ha dimostrato cose importanti al Monza e che alla Fiorentina potrebbe anche alzare l'asticella delle proprie prestazioni era sto ragazzo ve lo ricordo un pupillo per eccellenza del Berlusconi se fosse stato Berlusconi sto calciatore non sarebbe mai partito parere mio personale ad oggi è più che un'opportunità Colpani potrebbe presto diventare un nuovo calciatore della Fiorentina capitolo Lazio allora mercato in uscita no mercato in entrata in uscita poi ne parliamo magari domani con più calma si sta fortemente punta ovviamente esce uno come Ciro Immobile su Casteggianos ribadisco un concetto espresso qualche settimana fa non sono così certi della sua permanenza non sono così convinti al 100% di fronte all'offerta si era parlato di Girono se non ricordo male di fronte ad un'offerta che soddisfi lo dito e non è facile soddisfare lo dito partirebbe pure lui ma capite bene che già è partito Immobile quindi si sta rivoluzionando e stravolgendo quello che è il reparto d'attacco della Lazio il pallino numero uno da sempre da tanti anni a questa parte è il ciolito Simeone anche per trascorsi e ricorsi storici col padre che diceva il padre l'ha giocato poi anche all'Inter insomma però ecco quel pallino è rimasto lì si vuole dare la possibilità come quell'annata che Simeone fece col Verona che poi gli fece fa il salto di qualità alla fine definitivo e che lo portò a trasferirsi al Napoli a Napoli c'ha avuto poche possibilità per quanto 12 gol mi pare l'ha fatti in un paio due o tre stagioni non mi ricordo alla Lazio avrebbe grandissime possibilità di diventare titolare sappiamo tutti il reparto offensivo del Napoli Simeone ha capito che c'ha poche possibilità anche se parto Simeone arriva Lukaku Luis è sempre l'ultima ruota del carro mettiamola così è per questo che Simeone starebbe seriamente pensando di trasferirsi alla Lazio non è facile convincere il Napoli perché economicamente ovviamente ragazzi De Laurentiis vuole una cifra abbastanza importante l'Odito metterà il 99% sulla futura rivendita ma De Laurentiis non lo convinci facilmente staremo a vedere però io sono convinto che l'Odito su questo spingerà non come con Greenwood o come con altri calciatori che poi alla fine sono sfumati su De Lui secondo me martellerà in una maniera di quelle clamorose perché credono fortemente nelle caratteristiche potrebbe essere proprio perfetto allora sulla Roma io devo continuare a parlarvi di Sule perché poi ci sono stati dei risvolti dei contro risvolti la Roma ha fatto il rilancio e ve l'avevo detto se non sbaglio no mi sa che non ve l'avevo detto avevo detto la Roma ha offerto 26 il Leicester ha rilanciato questo sa che è proprio di ieri anche il rilancio del Leicester 30 30 milioni di euro la Roma da quel che ho capito perché poi alcune testate giornalistiche la riportano in maniera leggermente diversa ma da quel che ho capito dovrebbe essere così la Roma ha pareggiato l'offerta del Leicester c'è chi dice la pareggerà Sky Sport per esempio dice la Roma arriverà a pareggiare l'offerta si spingerà massimo 30 milioni di euro cioè chi dice la Roma l'ha pareggiata già l'offerta se hai offerto 26 hanno offerto 30 secondo me pure tu a 30 ci arrivi la chiave di volta è sembra che il Leicester più di 30 non offra ricordo che la Juve chiede 40 quindi ok Juve chiede 40 Leicester a più di 30 non si spinge altri club disposti ad arrivare a 30 non ci sono la Roma pareggerà semplicemente l'offerta e dovrebbe essere da quello che dicono sufficiente per chiudere l'operazione di calciomercato forte della volontà del calciatore che vuole solo ed esclusivamente la Roma all'Eicester non ci vuole andare mancano offerte il massimo è 30 devi vendere per forza perché vuoi sostituire il calciatore si potrebbe chiudere c'è chi dice entro l'inizio della prossima settimana entro martedì mercoledì questa operazione di calciomercato ha queste cifre ci credo poco vi dico la verità però ne riparleremo ci riaggiorneremo sicuramente per quanto riguarda il Napoli adesso ci arriviamo perché è bella pesante e poi due situazioni un po' particolari per Milano e Inter ma prima visto che me lo state chiedendo in tantissimi è vero che la Juve sta continuando a spingere per Totibò è vero che si sta avvicinando a grandi falcate è vero che il cabal della situazione non esclude l'arrivo di Totibò cioè si vuole puntare fortemente l'ha detto lo stesso giunto era praticamente arrivato cabal ha detto prenderemo un giocatore per reparto significa che ovviamente si sta spingendo per un altro difensore Totibò si sta avvicinando in realtà l'offerta totale che la Juventus ha fatto è di 35 milioni di euro impostata così prestito a circa 10 milioni di euro con obbligo di riscatto a circa 25 ci saranno dei mezzo dei bonus tra facile e difficili da raggiungere ma questa è l'ultima proposta che è stata fatta al oddio inizio da dove veniva vabbè la stessa squadra di Duram ragazzi chiedo scusa con tutte queste cazzo di squadra mi sto rincoglionendo attenti perché anche in questo caso non tanto questo weekend quanto l'inizio della prossima settimana potrebbe essere decisivo per chiudere definitivamente questa operazione di calcio mercato sarebbe un colpo clamoroso allora queste ve le sparo così proprio lo dice Sky Sport ieri sera l'Inter per la difesa sta puntando a un difensore molto interessante Renan dello Zenit ventenne lo conoscete calciatore molto particolare che comunque ha una valutazione abbastanza importante quindi dopo aver perso Cabal sembra che l'obiettivo numero uno sia diventato lui poi conosciamo Marotta si interessa a tanti calciatori magari lo fa anche per depistare e poi magari affonda da tutt'altra parte oppure potrebbe essere proprio lui quello che quello che prenderà però ecco non ne stanno facendo un dramma Cabal è sfumato ok cerchiamo altro un profilo che ci interessa affine a quelle che sono le caratteristiche che chiediamo e ci prendiamo quello attenzione Renan Renan chiamatelo come vi pare potrebbe presto diventare un nuovo calciatore dell'Inter Rios del Milan mi scordo sempre il nome Richard Rios ok mi è tornato in mente perché è un calciatore ragazzi non conosciutissimo ovviamente è un centrocampista può fare anche il mediano per caratteristiche sarebbe molto interessante sarebbe molto importante per il Milan è il 24enne ribadisco centrocampista del Palmeiras quando Palmeiras come piace chiamarlo a me quindi Milan che si sta interessando oltre ai soliti Fofanà oltre al solito Emerson Royale oltre al solito chi era quell'altro Pavlovich sta cercando di capire fattibilità di operazioni di calciopercato anche su altri calciatori attenzione perché anche questo dicono da Milanello sia un profilo che interessa fortemente al Milan e ovviamente la situazione più importante del calciomercato di oggi è la sparacchia in questo momento Napoli Lukaku c'è l'accordo l'accordo prevede 6 milioni di euro a Lukaku bonus compresi da quello che ho capito per i prossimi tre anni il Chelsea continua a chiedere 35 milioni di euro più bonus quindi un sacco di soldi 40 milioni di euro il Napoli non vuole spendere quella cifra seppur presto dovrebbe cedere Osimena inizio settimana prossima anche in questo caso potrebbe essere decisiva per non a 130 non col pagamento della clausola da quello che ho capito dell'Aurentis si accontenterebbe dei 115 mi pare qualcosa del genere anche dilazionato nel tempo da quello che ho capito e una volta che esce Osimena entra immediatamente Romelu Lukaku Lukaku per rilanciarsi ha capito che deve solo che sta a fianco a Conte e lavorare con Conte perché da dopo Conte dove andate a Nato ragazzi non è più di quel livello anche con noi per quanto ha fatto tanti gol ma non si sente così forte come si sentiva con Conte quindi Lukaku non vede altro che Conte a prescindere da dove va pure se va a Milan non gliene può fregare di meno quindi l'accordo c'è e presto molto presto una volta uscito Osimena si formalizzerà definitivamente questa operazione di calciomercato per me è già chiusa già è fatta se Osimena parte il Napoli non prende altri attaccanti col Chelsea te ci accordi 35 più bonus non glieli daranno mai perché so forti del fatto che nessuno col calciomercato che prima o poi terminerà nessuno gli offrirà mai quella cifra quindi se il Chelsea lo vuole vendere definitivamente non prestarlo ancora una volta e vederlo un anno ancora più vecchio e abbassare la valutazione che non abbassano l'unico modo è quello secondo me ragazzi ha 25 più bonus a 30 milioni se chiude definitivamente st'operazione di calciomercato grazie per la visione alla prossima con un nuovo video grazie a tutti